Nella mattinata di ieri la polizia stradale di Prato-La Peligna, durante un controllo di routine, ha denunciato un anziano per detezione illecita di schede telefoniche nuove e tablet di ultima generazione. Nel corso dei controlli presso il casello autostradale di Prato, l'agli agenti hanno fermato CM, sottoponendolo ad un normale controllo, notando però il nervosismo dell'uomo, che inizialmente si è allontanato dalla propria automobile per distrarre i poliziotti. Il nervosismo dell'uomo di origini terramane era del tutto fondato. Infatti, nell'abitacolo sono stati rinvenuti quattro telefoni cellulari, due tablet, di cui due iPhone e due iPad, ancora perfettamente imballati, per un valore complessivo di 3.000 euro. Alla domanda degli agenti sulla provenienza del materiale altamente high-tech, forse troppo per una persona di quell'età, l'uomo non ha saputo dare risposte convincenti. Non aveva con sé fatture, scontrini o ricevute per attestarne l'acquisto, né ha saputo dare spiegazioni convincenti sulla destinazione delle apparecchiature, alimentando maggiormente l'ipotesi delittuosa. Motivi questi che richiedevano l'intervento della polizia giudiziaria, alla quale, giunta sul posto dopo l'ispezione del veicolo, ha trovato anche 24 schere telefoniche della compagnia telefonica Vodafone, anch'esse ancora custodite nelle custodie originali, non ancora intestate e dunque pronte per essere immesse nella rete della criminalità organizzata nel contrabando. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e CM è stato indagato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza della merce.